Uno degli argomenti più discussi dal femminismo mainstream e dallo Stato è il famoso gender pay gap, cioè l'idea che le donne nel loro complesso verrebbero pagate meno degli uomini. E la soluzione per lo Stato non è altro che quella di introdurre provvedimenti quali salario minimo o punire le aziende che sono causa di questo gender pay gap e di imporre dei determinati salari per le donne. Ma che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che lo Stato considera le donne da un punto di vista collettivista, cioè le considera come gruppo, trascurando le scelte, il punto di vista dell'individualismo metodologico, cioè trascurando le scelte singole che le singole donne come individui compiono in relazione alle loro vite. Infatti il gender pay gap non è detto che sia dovuto al sessismo, ma molto spesso sono le stesse donne che scelgono mansioni o tipi di occupazioni di lavoro che lasciano loro più tempo libero, che siano magari meno remunerativi, ma che lasciano loro più tempo libero da dedicare alla famiglia, ai figli, alla casa o semplicemente a loro stesse. Quindi questo intervento da parte dello Stato con imposizione di salari alle aziende, la punizione delle aziende in posizione di quote, non fa altro che andare a alterare i naturali meccanismi di aggiustamento del mercato, portando appunto delle conseguenze negative per le donne stesse, cioè conducendo ad un aumento della disoccupazione femminile, conducendo molte donne alla povertà e addirittura a dover dipendere dal sistema assistenzialista di welfare. Ecco che quindi appunto ci sono delle, cioè come spesso succede la via dell'inferno e la stricata di buone intenzioni, ma appunto se vediamo che nelle nostre società anche il sessismo sta aumentando, è anche proprio a causa dei provvedimenti degli stati, dei provvedimenti dei governi che adottano appunto dei provvedimenti, introducono dei provvedimenti che privilegiano le donne senza però considerarne il merito e ovviamente tutto questo andrà a detrimento dell'intera società, dell'intero benessere della società. Ecco che quindi invece che diminuire il sessismo, il sessismo aumenterà, aumenterà l'ostilità nei confronti delle donne le quali si troveranno ancor più discriminate.